Fino ad ora solo promesse, nessun fatto concreto sulla sicurezza in ospedale se non la riduzione degli addetti. L'UGL ha fatto il punto della situazione all'indomani dell'aggressione all'ospedale di Pescara, che ha messo a repentaglio, ha ribadito il sindacato, operatori sanitari ed agenti, nonostante l'annuncio di un aumento del personale che non è mai stato fatto, anzi ci sono stati dei tagli. A parlare così in conferenza stampa Armando Foschi, segretario provinciale UGL, UTL, Chieti, Pescara, Federica Berardinelli, segretaria provinciale UGL Salute, Chieti, Pescara, Gianna Diamicis, componente direttivo confederale e consigliere nazionale Fabio Urbini, coordinatore regionale UGL Sicurezza Civile Abruzzo. Ma noi sono già diversi mesi che richiediamo un incontro al prefetto per verificare la situazione di sicurezza in ospedale perché, come abbiamo sempre detto, senza essere ascoltati ci iniziano a essere problemi sicuramente di ordine pubblico e di sicurezza reale per quanto riguarda il personale sanitario, gli utenti dell'ospedale ma anche degli operatori stessi della vigilanza che si trovano ad operare in condizioni non proprio fantastiche. Quando dice così è per una carenza di organico? È una carenza di organico perché la vigilanza a Pescara, mano a mano che siamo andati avanti, è stata sempre ridotta e con l'ultimo appalto intervenuto da luglio sono state ridotte delle postazioni quindi abbiamo in alcuni reparti carenza di postazioni, in altri che dovevano essere ampliati invece sono stati proprio annullati e sono rimasti come erano, insufficienti. In Abruzzo c'è un incremento notevole delle aggressioni anche verbali, afferma Gianna Diamicis. Intanto occorrerebbe una formazione adeguata al personale sanitario sulla comunicazione, un incremento che è la cosa invece più importante del numero del personale sanitario perché se continuiamo a tagliare sul personale è chiaro che il personale che si trova a lavorare in condizioni estreme non è lucido poi per poter rispondere a quelli che sono i bisogni dell'utenza. Questo non giustifica l'aggressione in nessun modo, quindi questa cosa non è giustificabile, bisogna arginare assolutamente e questo fa il paio anche con il personale addetto alla sicurezza che non può essere un personale surrogato, deve essere l'ordine carabinieri, polizia, guardie giurate. Inoltre l'UGL chiede un posto fisso di polizia H24.